Il viaggio del Papa in Messico ha fatto tappa al santuario della Madonna di Guadalupe, patrona delle Americhe. Bagno di folla per Papa Francesco, con decine di migliaia di persone in piazza davanti al più grande santuario mariano del mondo visitato da 20 milioni di pellegrini l'anno. Celebrando la messa, alla quale ha assistito il capo dello Stato messicano Enrique Peña Nieto, il pontefice ha rivolto un pensiero ai sofferenti, agli sfollati, agli emarginati. Ha inoltre invitato i vescovi locali ad andare verso la gente, a mobilitarsi contro il traffico di droga e a non lasciarsi corrompere dal materialismo o da accordi sottobanco. Nei prossimi giorni il pontefice incontrerà popolazione indigene nel sud del Messico e migranti.